Cari amici di AutoDigest, sono Carmen Marzocca e vi presento uno Young Timer da comprare. E' un Audi TT Road Sphere del 2001. Adesso andiamo a vedere come va su strada, venite con me. Che dire il comportamento su strada? Molto divertente. Il motore è il 1.8, 20 valvole turbo che forniva 150 cavalli, ma il turbo spingeva in basso, le 20 valvole in alto. Quindi è una vettura che in basso è fluida, piacevolissima, e in alto, quando si tira, tira sul serio, a prestazioni notevoli. Anche la versione a due reutemotrici, trazione anteriore, ha una tenuta di strada notevolissima, ma soprattutto la managgevolezza e la facilità di guida che impressiona. Un'auto sicuramente molto affidabile. Le prestazioni sono notevoli, supera i 220 all'ora e viaggia a 200 senza alcuna difficoltà. Il consumo? Il consumo, se si va piano, fai anche 12, 13, 14 con un litro. Se tiri, ne fai 5 come tutte le sportive. Un'auto molto accessibile, ha un prezzo molto interessante, 10-15 mila euro. E anche un bagagliaio abbastanza capiente per una come me che fa la fotomodella. La DTT è stata costruita in tre serie. Montò anche un motore turbodiesel da 170 cavalli e nell'ultima versione, che qui vediamo affiancata alla prima, c'era anche quattro lote motrici e la TTRS con ben 400 cavalli.